Quattro persone, tutti i cittadini romeni tra i 24 e i 47 anni, sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare dai carabinieri della stazione di Tarcento e della compagnia di Cividale, al termine di un'indagine su diversi furti e danni di attività commerciali commessi tra il Friuli Collinare e il Veneto. Un quinto componente della banda, per cui era stata emessa analoga ordinanza, è invece deceduto pochi giorni prima della notifica del provvedimento. L'indagine, denominata Dracula, è partita a seguito di una serie di furti e danni di barra, distributori di benzina, concessionari di auto, avvenuti tra ottobre 2018 tra la Friuli Collinare e il Veneto. Il modus operandi appunto di questa banda di criminali, tutti rumeni, era quello diciamo abbastanza comune di utilizzare come base in questo caso la residenza di uno di questi a Bologna e spostarsi in tutto il nord Italia. Quindi per noi abbiamo 15 episodi in regione e poi siamo riusciti ad attribuirne altri 5 avvenuti nel Basso Veneto, nelle province di Venezia e Treviso. La refurtiva monta diverse decine di migliaia di euro. Tra i beni recuperati è anche un autocarro e un'auto rubata in provincia di Udine. Loro partivano dalla base appunto di Bologna, si fermavano uno o al massimo due giorni, facevano questi ride che riguardavano un po' obiettivi non specifici, quindi dal distributore di benzina alla ditta ed ile, alla concessionaria di auto perché sono riusciti anche a rubare un'autovettura in un'occasione e poi ritornavano alla base appunto. Partita a seguito di un furto ad una colonina di un distributore di benzina Nimis, l'operazione ha permesso di risalire prima una delle auto utilizzate per i furti, poi via via le persone coinvolte grazie anche alle tracce lasciate sui luoghi interessati. Per riuscire, non avendo basi o aiuti in loco, si organizzavano con quello che trovavano e siamo riusciti a individuare uno di questi nascondigli momentanei in un'area boschiva in cui c'erano anche delle tracce che ci hanno permesso poi di attribuire alcuni degli episodi a questi soggetti.